Per Settimana Sport siamo con Mattia Merialdo, autore del primo gol del Bergagli e capo canoniere della sua squadra. Allora Mattia, oggi direi una bella partita, avete giocato a mio parere bene, avete avuto tantissime occasioni, però alla fine avete un pochettino rischiato. Sì, siamo partiti molto bene andando sul 2-0, poi queste partite bisogna chiudere perché sbagli una palla, prendi gol e poi è lunga. Quindi dovevamo andare sul 3-0 e poco dopo abbiamo preso gol. Secondo tempo però siamo stati bravi a non soffrire più di tanto, abbiamo preso anche tre pali, quindi vittoria direi sicuramente meritata. Vittoria meritata, senza altro, anche dal mio punto di vista. E diciamo a questo punto quali sono i vostri obiettivi? A noi ora ci siamo un po' tolti dalla parte bassa della classifica. Abbiamo avuto un po' di difficoltà nella prima parte perché eravamo sempre un po' contati, ci mancava sempre qualche giocatore. Ora bene o male ci siamo, quindi una volta che saremo tranquilli potremo guardare anche le parti più alte. Comunque partita dopo partita vedremo come saremo messi. Ok, grazie, ciao. Grazie a te, ciao.